Si lavora senza sosta al Teatro Comunale di Via Verdi e la data presunta di riconsegna è stata fissata per il 14 maggio del 2023, a 150 anni dalla prima rappresentazione. L'obiettivo è rialzare il sipario prima possibile, espletando la gara d'appalto dell'ultimo lotto la prossima estate per partire con i lavori entro l'anno. Questo sembra essere il termine fissato dall'architetto Augusto Ciciotti del segretariato, un cronoprogramma che è stato anche oggetto di una recente riunione in comune, proprietario del bene, alla quale è partecipato il segretariato ma anche l'ufficio speciale per la ricostruzione. Il teatro è sede del TSA dal 1963 e per l'ente è fondamentale tornare a casa e restituire un luogo di cultura essenziale per le proprie attività, ma anche per la vitalità del centro storico stesso, come testimonia il direttore amministrativo del TSA, Giorgio Iraggi. Sono anni che costringiamo ad andare nella sala a fianco, nella sala del ridotto del teatro comunale, che però è assolutamente insufficiente non solo per il numero di posti ma per la grandezza del palcoscenico e ciò inibisce l'ospitalità di compagnie molto importanti per le quali purtroppo dobbiamo declinare l'invito ogni volta e che inibisce anche i nostri allestimenti. Per cui la riconsegna del teatro comunale sarà senz'altro un punto di svolta di questa città. Purtroppo a oggi non possiamo dare colpa a nessuno sul fatto che ancora non si riconsegni perché sarebbe facile, è colpa di Tizio, di Caio, di Sempronio. Qui la verità è che ci sono lavori complessi, che ci sono state vicende giudiziarie molto pesanti, come tutti sappiamo, e che adesso ho notato che c'è un grande attivismo sia dalla direzione dei beni culturali, sia dall'ente proprietario che il comune, anche da parte nostra, come futuri gestori insieme alla vicepresidente Centofanti partecipiamo spesso alle riunioni che vengono convocate con questo ordine del giorno. C'è stato qualche ritardo legato al Covid che non ha compromesso però più di tanto la tabella di marcia e si è a buon punto con la progettazione del secondo lotto. I arredi potrebbero restare fuori dal contributo ma già si è fatta domanda per l'integrazione di finanziamenti. La progettazione del secondo lotto prevede interventi strutturali, miglioramento sismico, apparati, impiantistico e scenotecnico, un progetto molto complesso vista la delicatezza e la storia dell'opera condiviso con TSA e Comune.